Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore Gabriele Garco, scoop senza precedenti sul famoso attore italiano Viene allo scoperto il segreto sorprendente nascosto fino ad ora Ecco chi è il figlio segreto.Gabriele Garco, luci puntate sul noto attore italiano Bello come il sole, Gabriele Garco è stato e continua ad essere un sexy simbol italiano, tra gli attori più amati del piccolo, e del grande schermo Lui è considerato uno degli uomini più belli del mondo.Gabriele Garco La sua sfavillante carriera inizia come attore di fotoromanzi fino a quando nel 1993, prende parte a scherzi a parte come ballerino. Da lì il successo per lui arriverà in brevissimo tempo Lo abbiamo visto recitare in diverse serie e miniserie importanti come Il bello delle donne e l'onore e il rispetto Al cinema invece, è stato uno dei protagonisti delle Fate ignoranti per la regia di Ferzano Zpetechi Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo una relazione con Manuela Arcuri e Eva Grimaldi, l'attore ha fatto Coming Out nel 2020, in occasione della sua partecipazione, come ospite, a Grande Fratello Vip Dichiarando a tutta Italia di aver avuto una relazione di ben 11 anni con un uomo di nome Riccardo Spunta però ora un segreto tenuto nascosto fino ad adesso. Lei è rimasta incinta di lui Ecco chi è il figlio segreto.Chi è il figlio segreto dell'attore italiano Ha sconvolto tutti questa notizia. Gabriele Garco ha un figlio segreto Che cosa è successo? Chi è che è rimasta incinta? Qualche tempo fa, il noto attore italiano è stato ospite nel salotto di Alfonso Signorini nella sua trasmissione Calispera Gabriele Garco.E proprio lì, l'attore dell'onore e rispetto ha confessato di aver avuto una relazione con una giovane donna quando aveva appena 16 anni e che la sua fidanzatina del tempo era rimasta incinta Queste le sue parole 2.A 16 anni avevo una ragazza. La misi incinta e aspettavamo un bambino, ci penso spesso Ma credo anche che se l'avessimo avuto non sarei qui.Che cosa ne è stato di questo bambino? L'attore non ha voluto approfondire la questione, ma si crede che la donna che lo portava in grembo lo abbia perso, o che comunque il piccolo non sia mai nato Oggi, Gabriele Garco è un uomo realizzato e felice. Lo scorso 12 luglio ha festeggiato i suoi 50 anni e al party organizzato in suo onore, c'erano diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Millie Carlucci e Francesca Manzini Grande assente, Gabriele Rossi, l'attore che con Gabriele Garco ha avuto una meravigliosa storia d'amore Gabriele Rossi.A questo proposito, Gabriele Rossi, intervistato dal settimanale Chi, ha affermato Sono stato invitato alla festa, ma ho chiamato Gabriele e gli ho detto, che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi, senza caos e senza folla Tra di noi c'è un grande affetto, oggi lo sento finalmente sereno e migliorato Vederlo così rende felice anche me.Insomma, Garco che due anni fa, ha fatto coming out, nonostante l'esperienza vissuta con la sua fidanzata di 16 anni, tanto tempo fa, oggi sogna una famiglia e spera presto di poter diventare padre Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente